Arezzo 2020 ha organizzato una tre giorni per parlare di salute e lavoro, due temi di strettissima attualità in una città che sta soffrendo una crisi senza precedenti. Sì, una città addormentata e una città che ovviamente come gran parte delle città italiane deve uscire dall'emergenza Covid. Una città che però, a differenza di altre, non sta reagendo dal nostro punto di vista, soprattutto dal punto di vista politico e amministrativo. Un sindaco assente, un'amministrazione che non segue i problemi dei cittadini e delle cittadine di questa città. Come forza di minoranza, come forza di centro-sinistra abbiamo deciso di avviare invece un percorso programmatico che porti a costruire la città del domani, andando ad affrontare alcune tematiche che crediamo prioritarie, l'ambiente, la salute e il lavoro. Sono tre tematiche che riguardano tutti noi, giovani, meno giovani e che riguardano soprattutto, come dice il titolo, domani e il futuro dei nostri cittadini e delle nostre cittadine. Proposte concrete per costruire una città diversa e migliore da quella che stiamo vivendo oggi, anche e soprattutto in prospettiva degli ingenti finanziamenti che arriveranno da Bruxelles, del famoso Recovery Fund. C'è un'altra crisi che sta attraversando questa città, è quella culturale. Assolutamente, c'è un tema culturale di prioritaria importanza, una città che ha dimostrato anche in questi ultimi mesi una totale assenza sulle vetrine nazionali e internazionali, quando invece potrebbe essere una capitale, una delle capitali di questo paese, su questo settore, un'assenza di coinvolgimento del ricco tessuto culturale della città. Insomma, sono tanti gli aspetti che secondo noi un'amministrazione dovrebbe fare, un sindaco vero presente in città dovrebbe fare e che non sta facendo. Bene, noi con queste iniziative e con la nostra presenza consigliare dimostriamo che potrebbe esserci un Arezzo migliore, un Arezzo migliore che dobbiamo appunto costruire e che spero presto sarà possibile fare tornando al voto.